Oltre che per tantissimi aspetti delle nostre vite, il 2020 è stato un anno spartiacque anche nel ciclismo e in maniera più netta che mai. In questo video cercherò di capire come e perché. Ci sono momenti, personaggi, storie, situazioni che cambiano tutto, rimangono indelebili e da quel momento non ci si può più voltare indietro. Momenti di passaggio improvvisi e laceranti che segnano la storia. Negli ultimi due anni un'infornata ai giovani fenomeni ha lanciato in maniera indelebile una tendenza. Sono più giovani del solito, più precoci, più completi. Elementi come l'alimentazione degli anni 2000 e l'attenzione spasmodica alla preparazione atletica, che hanno radici lontane, li rendono più pronti. Le evoluzioni strategiche e quelle tecnologiche sono due dei tre ingredienti che rendono possibili le grandi rivoluzioni del ciclismo. L'altro è il talento. Ciao a tutti, spero che vi siate svegliati di buon umore in questo 2021, che si apre con grandi aspettative verso il nuovo anno sportivo, dopo quella che è stata fondamentalmente la stagione più assurda di sempre per atleti e per gli appassionati, per tutti. Quindi prima di tuffarci una nuova annata, diamo uno sguardo insieme a quello che è stato il grande tema del 2020, il ricambio generazionale che ha ribaltato le sorti del ciclismo contemporaneo. Dalla vittoria di Remco e Venepo a Burgos il 30 luglio, fino a quella di Tao Geoghen Hart al Giro d'Italia il 25 ottobre è stato un intero periodo di rivoluzione assoluta. E la storia umana è costellata di questi momenti critici che fanno la storia stessa nei suoi vari ambiti. Per esempio quando Marco Pantani vinse sul Galibier il 27 luglio 1998, cambiò per sempre la nostra visione del ciclismo, quantomeno per noi italiani, ma credo non solo. Ma a mio avviso non è assolutamente differente una rivoluzione come può essere stata quella di Paul Simonon, il bassista dei Clash, che rupe il suo basso alla fine dello show al Palladium di New York il 21 settembre 1979 e cambiò per sempre la storia del rock, ma anche, per un altro esempio, la schiacciata di Michael Jordan al Dan Contest dell'NBA del 1988 il 6 febbraio, quando batte Dominic Wilkins dopo una sfida incredibile saltando dalla linea del tiro libero. Possono essere dei singoli che attuano solitari queste enormi rivoluzioni o possono essere dei gruppi. Rimanendo alla leggenda Michael Jordan c'è stato pochi anni dopo di questa schiacciata il Dream Team, il Team USA del 1992, che dominò le Olimpiadi del Barcellona e cambiò per sempre anche lì la visione della pallacanestro. Ma dal momento credo fortemente che lo sport sia assolutamente una forma d'arte, non vedo perché appunto non comunare momenti del genere con momenti come gli anni Sessanta, con i Beatles e Rolling Stones che avevano totalmente cambiato il panorama musicale mondiale e il mondo non avrebbe più potuto fare a meno di confrontarsi con quel periodo, con quei personaggi da lì in poi. In certe condizioni spazio-temporali si creano coaguli di talento, di pensiero, luoghi e momenti culturalmente fertili che esprimono la perfezione e l'anima della storia umana di quell'epoca. E la musica per esempio lascia un'ipronta fortissima nella cultura. Pensate a cosa sarebbero stati gli anni 90 senza Nirvana, pensiamo a cosa sarebbero stati gli ultimi trent'anni senza l'esplosione del fenomeno dell'hip-hop o per rimanere in Italia il periodo incredibile di produzione meravigliosa portata dalla scuola genovese De André, Lauzi, Tenko, Gino Paoli. Ma ci sono tanti esempi da poter fare come appunto la Seattle degli anni 90, la New Orleans del Jets o l'elettronica francese o nelle regioni nordiche per rimanere negli ultimi anni. Arriva qualcuno e boom, cambia tutto, tutto. O ancora mi viene in mente il cinema con capolavori che segnano la nostra memoria visiva o che modificano per sempre il pensiero culturale di un'epoca e anche delle successive. Permette di immaginare oltre cose che non avevi mai immaginato e che da quel momento in poi fanno parte del tuo bagaglio mentale e non lo lasceranno mai più. L'esempio di Jurassic Park per me è pazzesco perché nessuno di noi si era letteralmente mai immaginato dei dinosauri come erano fatti in quella serie di film e da lì in poi tutti ce li siamo immaginati esattamente in quel modo e fondamentalmente non possiamo farne a meno. Così come per toccare ambiti che poi vanno a modificare maggiormente le nostre vite non si può tornare indietro da episodi come il crollo del muro di Berlino oppure la recente conquista dei diritti da parte di varie minoranze attraverso gesti che hanno assolutamente modificato il corso della storia. In qualche modo si devono creare le condizioni e ci devono essere le persone. Il materiale umano è quello che conta di più per attuare queste rivoluzioni e nel ciclismo ce n'è a mazzi. I ciclisti fanno la storia del fisico umano, fanno la storia della tecnologia al servizio dell'uomo. E non sport a mio avviso a cambiare il corso della storia sono le novità tecnologiche e le grandi infornate di generazioni di campioni che velocizzano tremendamente l'evoluzione della disciplina che comunque segue sempre l'andamento tecnologico del pianeta. Per quanto riguarda i cambiamenti tecnologici senza stare a fare una storia completa della enorme evoluzione che ha avuto la bicicletta nell'ultimo secolo di storia dell'umanità, possiamo dire che prima le evoluzioni nel cambio campagnolo e poi scimano e poi le evoluzioni nei materiali utilizzati per costruire le biciclette e il loro telaio hanno portato a fare una differenza enorme su strada. Negli anni 90 la Colnago ha fatto assolutamente incetta delle corse più importanti con le loro nuove bici in carbonio e da quella volta nessuno ha più potuto competere con loro senza fabbricare delle bici in carbonio perché erano semplicemente troppo leggere. Così come negli ultimi anni i misuratori di potenza ti impongono di rispettare i numeri del computerino oltre che le sensazioni fisiche e mentali del momento per non rimanere a secco quando conta davvero contro gente che saprà gestire lo sforzo in maniera chirurgica, matematica. Negli anni 90 il treno della Saeco di Cipollini ha reso scientifiche anche le volate e questa è una evoluzione strategica importantissima. Ora addirittura a 20 anni di distanza il trenino Sky ha persino dettato il tempo a tutti in montagna, ha costretto tutte le altre squadre a rafforzare i propri collettivi attorno ai capitani perché il rischio che non vorresti mai correre è quello di rimanere da solo contro una superpotenza. Sono questi i cambiamenti strategici che hanno una uguale importanza rispetto a quelli tecnologici perché ancora una volta addettano la linea e non puoi rimanere indietro. Guardate questo trenino Sky, guardate da che volti è composto Garen Thomas, Wout Poles, Mieve, Kirienka, tutti a proteggere Froome e capite subito cosa intendo. E questi tre aspetti, quello tecnologico, quello strategico e quello umano, si mischiano continuamente perché sicuramente senza il talento di Chris Froome il trenino Sky non avrebbe avuto alcun senso, così come senza quello di Maurizio Fondriest o di Yoa Museu difficilmente le Colnago avrebbero vinto tutte quelle corse negli anni 90, così come il trenino Saeco non avrebbe avuto letteralmente alcun senso senza punta ai diamanti alla fine Mario Cipollini. E allora quello che veramente fa la differenza in fondo è chiaramente il materiale umano e lo abbiamo scoperto per esempio grazie a un Fausto Coppi. Sono gli atleti che ribaltano i paradigma, fenomeni al pari di quelli naturali che spazzano via tutto senza possibilità di appello. Coppi dominava grazie a una capacità polmonare assurda, ma pur non potendo replicarne le potenzialità fisiche, dopo aver osservato la sua rivoluzione dietetica, che è stata molto discussa nella sua epoca, l'idea di dover mangiare e vivere in maniera studiata e non raffazzonata per fare lo sportivo, tutti hanno iniziato a prendersi cura del proprio corpo per performare meglio e allungare le carriere anche senza la capacità polmonare di Coppi. Così come la completezza di uomini da Grand Tour, forti a cronometro e in salita come Eddie Merckx, come Bernard Hinault o Miguel Indurain, ha costretto nei decenni successivi tutti gli scalatori a diventare un po' più cronome e tutti gli cronomen a diventare un po' più scalatori, a lavorare duramente su se stessi, a equilibrare le proprie caratteristiche per almeno una fetta di successo per sé. Ne basta uno, uno di questi personaggi per causare uno stravolgimento al quale non si può più voltare. A volte casi fortuiti di concentrazione temporale ne portano più di uno nella stessa nidiata, come se esistessero dei salotti culturali del ciclismo, come nella belle époque parigina, che producono campioni a ripetizione. E infatti, arrivando ad oggi, arriva un Tadei Pogazzar che da solo distrugge il treno Jumbo costruito con alcuni dei più grandi passisti scalatori del mondo e si porta a casa un Tour de France a 22 anni, senza mezzo gregario che gli potesse dare una mano in montagna, a parte della cruz unico baluardo, e rifiutando a radioline il misuratore di vattaggi, buttando via tutto, diavolerie varie, non me ne frega niente, e ascende come un angelo sulla plage de Belfil e cambia tutto. Arriva Remco che parte a 70 km dalla fine sfida il greggismo, dando un minuto e mezzo a tutti, ed è rivoluzione. Arriva un'infornata incredibile e la generazione precedente è immediatamente vecchia. I loro volti, da dorati, diventano velocemente bronzo impolverato. Chris Froome, Vincenzo Nibali, Aleandro Valverde, non sembrano più competitivi per i grandi appuntamenti. Sono stati tre dei corridori che hanno più caratterizzato gli anni dieci, ma ognuno di loro ha dato segnali di netto declino nel 2020, come se fosse scaduta la patente. Insieme a loro Cavendish, Ligoberto Uran e tanti altri. Il fermo pandemico ha creato enormi problemi alle loro fibre, ineluttabilmente più lente a riattivarsi e sicuramente quest'anno hanno sofferto più del dovuto, ma mi sorprenderebbe tanto rivederli ai livelli di due o tre anni fa nel 2021 e negli anni successivi. Chiaramente Froome è un po' un discorso a parte, in quanto stava ancora recuperando il gravissimo infortunio subito nel 2019, ma quanto è distante dal vero Froome? È possibile colmare quel gap? Forse questi tre campioni potranno ancora vincere qualche appuntamento mirato e magari regalarci un bel canto del cigno, magari all'Olimpia di Vincenzo, però non sono più loro i padroni del circuito, quelli temuti e rispettati, quelli marcati da tutti che non possono mai essere lasciati andare via, quelli col bersaglio sulla schiena ogni volta che inforcano una bici. L'aspetto particolare è che dentro questa categoria non ci sono i corridori nati nel 1990, i vari Quintana, Dumoulin, Pinot, Aru, Sagan, un po' una generazione che non ha saputo rispettare le attese, sembrava una grande nidiata, ma ha vinto molto meno di quello che si pensasse. Ora tenuta viva da Primoz Roglic, che però è un newcomer del ciclismo, è appena arrivato, è come se non facesse parte di quella generazione. Sarebbero dovuti essere loro i protagonisti di questa epoca, ma sono passati presto, ognuno con qualche problema di natura, devo dire, in realtà più spesso mentale che fisica. Sono ben noti i problemi di Fabio Aru, e anche un duro come Alexandre Christophe, che ha vinto tantissimo, sta iniziando sempre più evidentemente a cedere il passo al giovane compagno Mads Pedersen. Il più talentuoso di tutti, ovviamente, è stato Peter Sagan, che può avere ancora del futuro ad altissimo livello, ma nelle gare che contano, obiettivamente, nell'ultimo paio d'anni, non è stato realmente competitivo per la vittoria. Gli manca sempre qualcosina, fin dal periodaccio per lui della separazione dalla moglie. Rimane il fatto, comunque, che nessuno di loro, almeno a quanto sembra ora, ha avuto o avrà una carriera longeva al top, come i Nibali, i Valverde o i Cancellare. Ora, quella temuta è già la generazione dei 95-2000, che ha travolto World Tour come un uragano. Ci sono ancora Roglic e Giuliana Lafilippe, che è un 92, a tenere alto l'onore degli ultra 25 anni, ma in qualche modo i ragazzi nati proprio nel periodo in cui assaporavamo tutta la bellezza e l'inferno dell'esistenza umana, osservando le ultime gesta del grandissimo Marco Pantani, rappresentano forse l'infornata più precoce di sempre. Possiamo vederlo anche brevemente dai numeri, con questo indice di Procycling Stats, che assegna dei punteggi in base ai risultati e che restituisce forse l'istantanea più facile da vedere di questo 2020, ma anche del 2019, che era stato l'inizio di questa ventata d'aria fresca, confermata poi clamorosamente nel 2020, dove, come vedete, gli Under 23 l'hanno praticamente fatta da padrone. Un altro esempio molto evidente l'abbiamo avuto nel podio del Mondiale di quest'anno, dove abbiamo avuto Alaphilippe un 92, Van Aert un 94 e Mark Hirschi un 98 sul podio, mentre per fare un esempio due anni fa aveva vinto Valverde classe 80, Subardet 90 e Michael Woods 86. Abbiamo visto in piccolo quello che sarà il ciclismo dei prossimi anni e allora proviamo a studiarcelo un po' insieme. Ovviamente Remco e Venepo, il corridore più promettente degli ultimi 30 o 40 anni. Poco da dire su di lui, un fenomeno per IZT, ma che ha già vinto la classica San Sebastian. Un fenomeno totale che potrebbe seriamente segnare la storia di questa disciplina, ma non è solo, perché anche Tadej Pogadar, come abbiamo già visto, ha già fatto la storia, vincendo un Tour de France a 22 anni. Remco è un classe 2000, Poggi è un classe 98. Poi abbiamo detto Mark Hirschi che ha vinto il Mondiale Under 23 nell'anno in cui Valverde ha vinto quello senior e quest'anno ha vinto una tappa al Tour de France, la Frecciavallone, e conquistato importantissimi piazzamenti durante tutta la stagione. Abbiamo poi il classe 95, Matt Pedersen, il campione mondiale dell'anno scorso a Harrogate, che ha vinto quest'anno la Gand Wegeveld e sicuramente sarà sempre pericoloso in questa epoca. E poi abbiamo Tom Pitcock, che quest'anno correrà per la prima volta da professionista insieme al Team Minions, e ha già fatto vedere enormi cose sia su strada che nel ciclocross nelle categorie giovanili. Questo qua sembra davvero, a livello di Remco o giù di lì, lui, Remco, Pogazzar e Egan Bernal potranno essere sicuramente i grandi protagonisti di questo decennio nei Grand Tour. Bernal, nella Ineos, ha già fatto le scarpe sia a Frun che a Thomas nel giro di un paio d'anni ed è diventato il grande capitano della squadra più forte del mondo, mentre Pitcock promette di far bene sia alle gare lunghe di tre settimane, ma anche alle gare di un giorno con le sue grandi qualità da ciclocrossista. E la completezza su tutti i terreni, insieme alla sfrontatezza tipica dell'età, sembra un tratto caratteristico di questi giovani fenomeni che hanno imparato le lezioni dei vari Ino, Merckx, Indurain. E proprio al ciclocross arrivano ovviamente i due grandi protagonisti di questa stagione invernale, del quale vi ho già diffusamente parlato nel primo video che abbiamo pubblicato su questo canale, e sono chiaramente Matteo Van Der Poel e Wout Van Aert, un 95-94, che già ora sono assolutamente dominanti e sono i punti di riferimento per tutti gli altri. Chiaramente non è finita qua perché ci sono tantissimi talenti che stanno per sbocciare e sono pronti a lasciare il segno nel World Tour, come Queen Simmons, come Robert Thunard, come Heiter, un altro nuovo Ineos, come Sosa, che prima o poi potrebbe esplodere, e anche chiaramente il nostro Andrea Bazzoli, che aspettiamo sui grandi palcoscenici a sfidare tutti questi altri grandi campioni. Gli ordini d'arrivo nel 2020 sono stati stravolti e ci dovremmo abituare. Voi cosa ne pensate? Chi sono, a vostro avviso, i più interessanti giovani per il futuro prossimo e non solo? Scrivetemelo nei commenti, fatemi sapere quello che pensate di questo video, se vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!